Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Oggi ho deciso di lanciare una nuova attività molto importante e cioè vi proporrò la lettura di alcune principali opere del Novecento, quindi in particolare stiamo parlando dei romanzi, proprio per affiancare allo studio dei principali autori e poeti che stiamo già trattando anche alcuni romanzieri del Novecento. Secondo me è molto importante perché sono quegli autori che di solito a scuola o non si fanno per mancanza di tempo oppure si affrontano però in maniera molto superficiale e sbrigativa proprio perché come ben sappiamo il tempo a disposizione è sempre poco. Qui invece ci prendiamo tutto lo spazio necessario che vogliamo e quindi possiamo decidere tranquillamente di farlo, però come sapete io ho poco tempo e quindi alle lezioni classiche e tradizionali che continueranno ad essere caricate qui sul canale durante tutto l'anno, ho deciso di affrontare anche la lettura e poi l'analisi approfondita di alcuni romanzi molto molto importanti. Siccome molti di voi mi hanno chiesto di occuparmi soprattutto anche del Novecento e non soltanto degli altri periodi, allora ho deciso di partire quest'oggi da un'opera molto interessante, sto parlando degli indifferenti di Alberto Moravia, quindi in che cosa consiste la nostra attività? Quella di prenderci due mesi di tempo, ovviamente qui dobbiamo essere elastici perché non è una gara, quindi prendete questi riferimenti che adesso io vi do con le pinze, insomma è molto probabile che i tempi poi si dilateranno oppure si accorceranno a seconda di tutti gli impegni che io ho a scuola perché come ben sapete non ho molto tempo a disposizione, comunque noi ci diamo appuntamento qui sul canale fra due mesi circa e poi ne parleremo insieme, affronteremo quindi l'analisi di quest'opera e quindi abbiamo due mesi di tempo, quindi gennaio e febbraio, per leggere questa importantissima opera, secondo me è uno dei più belli, dei più straordinari che siano mai stati scritti, io l'ho già letto tre volte e quindi per me sarà la quarta rilettura, però io lo affronto molto volentieri perché secondo me merita, è un pilastro fondamentale, Moravia, della letteratura del Novecento, è molto importante perché in questo romanzo vedremo una pesante critica nei confronti della borghesia degli anni venti e trenta, quindi siamo proprio tra le due guerre mondiali, ho scelto di partire da quest'opera proprio per questo motivo, questa che ho in mano è l'edizione della Bonpiani e potete usare quella che avete a casa, non c'è nessun problema, per darvi un'idea sono 291 pagine circa e quindi si affronta in maniera anche abbastanza veloce, però è sicuramente un'opera molto importante a cui tengo molto perché Moravia, ve lo dico subito, è un autore che io adoro tantissimo, ho letto moltissimi i suoi libri e quindi sarà per me un piacere partire proprio da quest'opera. Verso la fine di febbraio vi darò indicazioni per la nostra live perché ho deciso poi di affrontare subito l'analisi, il riassunto e soprattutto di fornirvi un mio commento personale però in diretta e quindi ci sarà anche la possibilità man mano che io parlo di porre delle domande oppure semplicemente di scrivere delle riflessioni o di evidenziare degli aspetti che vi hanno colpito maggiormente e che potrete condividere con tutti i membri del nostro canale. Per dare spazio a più persone possibili e soprattutto per permettervi di partecipare in base anche agli impegni di ciascuno di noi e sicuramente la live la faremo di sera. Se qualcuno l'ha già letto non deve far altro che aspettare quindi la serata della live giusto per darvi qualche indicazione e per invogliarvi alla lettura sappiate che Moravia ha iniziato a scrivere questo libro nel 1925 siamo nello stesso anno in cui Montale pubblica gli ossi di seppia nel 25 poi invece il romanzo venne pubblicato nel 1929 l'anno del crollo di Wall Street e quindi l'anno proprio della crisi economica della grande depressione però è interessante il titolo gli indifferenti qui troveremo le vicende di una famiglia borghese composta da pochi membri perché abbiamo la madre Maria Grazia con i suoi due figli Carla e Michele e poi ci sarà appunto Leo che non è di questa famiglia però la frequenta perché è l'amante della madre ma mentre si intrattiene con la madre cercherà di sedurre la figlia Carla e quindi vedremo da una parte questo borghese senza scrupoli questo arrivista che cercherà persino di impossessarsi della loro casa per pochi soldi un personaggio completamente privo di morale ma soprattutto i due grandi protagonisti due grandi indifferenti saranno proprio Carla e Michele i due figli che pur sentendo e pur provando dei sentimenti delle pulsioni non saranno in grado di opporvisi o di seguire comunque la loro volontà ecco sono indifferenti appunto perché non sono capaci di reagire non riescono cioè ad imporre la propria volontà e soprattutto a seguire le loro idee i loro pensieri oppure di opporsi a delle situazioni scandalose o che loro reputano e considerano sbagliate e quindi l'indifferenza sta proprio in questo vi leggo la definizione questo stato tranquillo dell'animo di fronte ad un oggetto in questo caso delle situazioni e in cui non si prova per esso o per la situazione nessun desiderio né repulsione ecco sono dei personaggi che si internamente provano e sentono qualcosa di positivo o di negativo ma non riescono in alcun modo poi ad esternare questa loro volontà quindi sono dei personaggi inerti e di questo ci parla il nostro grande autore del novecento in particolare ci saranno sempre questi ambienti chiusi ambienti domestici o comunque siamo nelle case nei palazzi oppure se siamo all'esterno in un ambiente spesso anche piovoso però siamo sempre all'interno di un'automobile di una vettura e quindi questi spazi angusti e soffocanti quasi asfissianti sono sempre indice di questa malattia di questa sofferenza interiore di questo disagio esistenziale di un'incapacità da parte dell'uomo di questa inettitudine ad affrontare la realtà perché sono tutti personaggi incapaci di imporre la loro volontà e di vivere la vita nella realtà quotidiana cioè loro vivono in potenza ma non trasformano nessun loro desiderio in atto e guardate che questa è davvero una condizione esistenziale che purtroppo permane ed esiste ancora oggi e quindi davvero è secondo me un romanzo di grandissima attualità di nuovo vi do poi appuntamento per la live serale vedremo se farla alla fine di febbraio oppure già a marzo inoltrato comunque noi ci prendiamo almeno due mesi sicuri poi vi aggiornerò più avanti quindi non vi preoccupate nei messaggi della community poi vi darò tutte le indicazioni e gli aggiornamenti del caso quindi vi aspetto più avanti proprio per parlare degli indifferenti di moravia e lì poi avrete la possibilità anche di interagire e quindi vi aspetto vediamo se questa iniziativa piace mi idea sarebbe quella di affrontare la lettura poi di parlarne insieme di almeno tre romanzi e quindi per questo 2023 questa è l'idea poi se riusciamo a farne di più o di meno pazienza vedremo come andrà però intanto io vi lancio la sfida fatemi sapere se vi piace se vi può interessare oppure se avete qualche titolo particolare che vorreste affrontare io sono sempre qui in ogni caso partiamo con moravia iscrivetevi al canale mi raccomando condividete vi auguro una buona giornata e come sempre vi aspetto alla prossima lezione a presto